OMCS, azienda leader nel settore della movimentazione industriale, da oltre 15 anni con la vendita ed assistenza di carrelli lavatori, termici ed elettronici. OMCS è concessionaria dei marchi Piaggio, Toyota, D10 ed Eurocomac. OMCS lo puoi trovare in località Vattiato, zona industriale Cutro. OMCS è stata inaugurata presso il Museo Marco di Catanzaro la mostra La Porta Magica, che ha visto la partecipazione di molte scuole. Abbiamo ascoltato per 8800 TV il commissario della provincia di Catanzaro Vandaferro, gli artisti Alberto Fizza e Alessandro Mendini e le insegnanti delle scuole coinvolte nell'iniziativa. È un punto d'eccellenza che ha visto veramente tante migliaia di ragazzi nella quinta edizione quest'anno, solo 600, da 8 scuole provenienti non soltanto dalla città di Catanzaro, ma da tutto il territorio provinciale, alla presenza di un testimone all'eccezione come Alessandro Mendini, che è stato qua anche per quegli appuntamenti che abbiamo avuto in queste settimane, ma ancora di più nel momento in cui veramente il museo diventa un punto d'incontro per creare una coscienza culturale e critica attraverso i laboratori. Lo abbiamo fatto partendo ovviamente dalle guide, anche partendo soprattutto dal museo stoico e quindi dalle proprietà stoiche della provincia. In questo caso ecco il progetto Porta Magica riguarda il maestro del Bianco Savelli, un nostro conterraneo che è stato reinterpretato dai ragazzi e soprattutto credo che è la cosa più bella che maggiormente ci fa piacere, vedete un'adesione importante, ma soprattutto questo rapporto sinergico tra il museo, la scuola, la famiglia e ovviamente poi gli attori protagonisti. Questa è l'occasione per presentare la nostra didattica, è una mostra dedicata a 600 lavori degli artisti ispirati ad Angelo Savelli, sono la dimostrazione di come la didattica del marca rappresenti il nostro centro educativo permanente rispetto all'attività del museo. In questi anni sono stati oltre 5.000 i bambini, i ragazzi dai 6 ai 13 anni che hanno frequentato i nostri laboratori provenienti da Catanzaro, dalla provincia e anche da fuori, a dimostrazione di come anche il modello della didattica del marca sia un modello assolutamente innovativo, nel senso che la nostra non è una didattica statica ma viene attivata in relazione alle mostre, sono i nostri giovani artisti in erba che reinterpretano i lavori dei grandi maestri. Questo museo nella progressione degli anni ha fatto delle mostre importantissime che l'hanno reso importante, anche come il centro di ricerca in tutta l'Europa. A me è capitato la fortuna di fare una mostra qui e di avere successivamente dei rapporti con la città anche per alcuni lavori che ho fatto e che sto facendo, per esempio nel lungomare di Catanzaro. E venire qui in questo stranissimo luogo, perché è una città molto strana anche dal punto di vista geologico, è sempre un grande piacere e un'opportunità speciale. Stamattina c'è questa presenza di bambini nel museo che fa capire che rapporto si può creare tra la creatività dell'infanzia e la creatività degli artisti che sono coloro che motivano i lavori dei bambini di mostra in mostra. È stata una esperienza molto bella sia per i ragazzi che io una quinta e anche per me, perché sinceramente non sapevo che avevamo tutte queste belle cose nella nostra città di Catanzaro. Adesso siamo ritornati per far vedere i bambini loro elaborati, per far capire che la cultura è senza fine, proprio come questa rappresentazione che è all'inizio del vostro istituto. Noi abbiamo avuto già l'opportunità di portare i bambini il 9 marzo, i bambini hanno fatto degli elaborati, è stata un'attività molto bella e creativa per i bambini, perché da soli hanno dovuto creare una loro opera d'arte. E oggi è l'occasione proprio per vedere la loro mostra e questo ha creato molto orgoglio nei bambini, erano strafelici di poter vedere la loro opera d'arte.